Buongiorno, sono la dottoressa Michela Tabanelli, direttrice dell'Unità Operativa Complessa di Dermatologia dell'ospedale di Ravenna, Lugo e Faenza. In occasione dell'Open Week sulla salute della donna, l'unità operativa aderisce al progetto portato avanti dalla Fondazione Onda, attraverso la divulgazione per via digitale delle principali patologie dermatologiche al femminile. Nella comunità scientifica le differenze di presentazione delle malattie e le differenze di risposta ai trattamenti nei due sessi sono argomento di studio e ciò è vero anche per la dermatologia. Le malattie dermatologiche possono essere più o meno specifiche del sesso femminile e possono presentarsi in tutte le età della donna, nell'infanzia e preadolescenza, nel periodo della fertilità, e nella menopausa. In questo quadro molto famoso di Klimt sono rappresentate le tre età della donna, l'infanzia, la fertilità e la senescenza. Partendo da questo concetto verranno presentate alcune malattie dermatologiche di particolare interesse. Il lichen scleroatrofico, lichen sclerosus etatroficus, si manifesta principalmente nell'infanzia e preadolescenza e nell'età della menopausa. È una malattia infiammatoria cutanea che colpisce i genitali e la zona perianale, con possibile forma 8. La malattia è più frequente nella donna rispetto all'uomo. Presenta due picchi di incidenza prima dello sviluppo sessuale e dopo la menopausa, evidenziando il possibile ruolo giocato dagli ormoni nello sviluppo della patologia. Viene attualmente inquadrata nell'ambito delle malattie rare di tipo autoimmune. Si caratterizza per chiazio, placche, biancastre, inizialmente con bordo eritematoso, che possono evolvere verso una situazione di atrofia, talvolta con associate fissurazioni, erosioni, aree ipercheratosiche, porpora ed ecchimosi. È possibile un riassorbimento tessutale, con scomparsa o incappucciamento del clitoride, fusioni di piccole e grandi labbra e anche ostruzione dello sbocco uretrale. I sintomi sono molto frequenti nel 90% dei casi e sono prurrito, bruciore, dolore e difficoltà a urinare. La malattia può essere molto invalidante, in quanto i sintomi possono alterare la qualità di vita dei pazienti in maniera significativa e perché questa patologia può interferire con la sfera sessuale e può rendere anche impossibile avere una normale vita sessuale. La diagnosi è prevalentemente clinica ed è il dermatologo lo specialista più indicato per effettuarla. Una diagnosi precoce è importante per poter impostare un trattamento efficace che arresti i possibili esiti permanenti. La terapia di attacco, come prima scelta, è un cortisonico locale potente, il clobetasole propionato. La terapia di mantenimento è effettuata con un cortisonico locale di media potenza, il metilprenisolone aceponato o il flutticasone propionato. Possono essere utilizzati risparmiatori di cortisone, come il tacrolimus e il pimecrolimus, consigliato sempre l'emolliente a base di vitamina E. Altri trattamenti, ancora off-label, ma descritti in letteratura, sono la crema agli estrogeni, la terapia fotodinamica, la citretina per bocca e il laser CO2 frazionato. In base al Decreto Legge 279-2001, la malattia è inserita nel novero delle malattie rare e la dermatologia di Ravenna è centro di riferimento che può accedere al sito delle malattie rare dell'Emilia-Romagna per effettuare la notifica di esenzione. È fondamentale il follow-up per queste pazienti, in quanto abbiamo un rischio oncologico nell'età avanzata, lo sviluppo di carcinoma spinocellulare. Nel periodo della fertilità, molto importanti sono le malattie a trasmissione sessuale, un gruppo di malattie batteriche e virali che si trasmettono tramite rapporti sessuali, particolarmente importanti nell'età adolescenziale, se trascurate possono portare a problematica nell'età adulta. Sono di origine batteriche e virali. Nelle batteriche abbiamo la clamidia tracomatis e la nesseria gonorrea, molto frequenti. Causano uletriti, vaginiti e aniti. Se non trattate, possono portare alla malattia infiammatoria pelvica. Importante è anche ricordare il treponema pallidum, la sifilide. Può essere trasmessa al feto e può dare se quelle permanenti. Le infezioni virali abbiamo la più frequente che è da papillomavirus. Alcuni ceppi possono provocare il cancro della cervice uterina, da cui l'importanza della vaccinazione nelle ragasse sopra i 12 anni. Ancora infezione da HIV, da epatite B, da epatite C e da herpes genitale. Molto invalidante per la paziente, ne vedete un esempio nella fotografia in basso. L'ambulatorio delle malattie a trasmissione sessuale viene effettuato in orari e giorni dedicati, nelle tre dermatologie degli ospedali di Ravenna, Lugo e Faenza. La prenotazione è telefonica o al front office negli orari di apertura al pubblico. Abbiamo la possibilità di effettuare esami diagnostici, terapie e un counseling. Le dermatosi specifiche in gravidanza possono essere patologie che occorrono solo durante il periodo della gestazione. Abbiamo anche dermatosi non specifiche della gravidanza, patologie dermatologiche che si manifestano in gravidanza, ma che non sono specifiche di tale periodo e possono presentarsi anche in altri momenti della vita. Nelle dermatosi specifiche della gravidanza abbiamo la colestasi intraepatica della gravidanza, che è caratterizzata da prurrito, ma soprattutto incremento degli acidi biliari, con possibili danni al feto. Abbiamo l'eruzione atopica della gravidanza, una dermatosi pruriginosa che compare durante i primi mesi di gestazione. L'eruzione polimorfa della gravidanza, che comprende l'entità precedentemente nota come PUP, pruritic orticarial papules and plaques of pregnancy, e che è specifica degli ultimi mesi di gestazione. Ancora, penfigoide gestazionale, una malattia bollosa autoimmune tipica del secondo o terzo trimestre di gestazione. La collaborazione tra dermatologo e ginecologo è quindi fondamentale in queste dermatosi specifiche della gravidanza, per effettuare trattamenti efficaci e sicuri per madre e feto. In base al Decreto Legge 279-2001, queste malattie bollose sono inserite tra le malattie rare e la dermatologia di Ravenna è centro di riferimento che può accedere al sito delle malattie rare dell'Emilia-Romagna per effettuare la notifica di esenzione. Fondamentale per queste pazienti è una diagnosi precoce, la presa in carico con successiva terapia e codice di esenzione. Nelle dermatosi non specifiche della gravidanza sappiamo che le modificazioni delle lesioni pigmentate in gravidanza sono molto frequenti e coinvolgono sia lesioni melanocitiche che non melanocitiche. Durante la gravidanza i nevi melanocitici possono diventare più grandi e più scuri sotto l'influsso ormonale e lo stiramento della cute, soprattutto se localizzati a livello delle mammelle o dell'addome. L'ingrandimento è simmetrico e l'aumento della pigmentazione è omogeneo, entrambi indizi di una modificazione benigna. In gravidanza possono inoltre aumentare di numero e di dimensioni e in misura variabile anche altre lesioni benigne come le cheratosi seborroiche, gli angiomi rubino e i fibromi molli o penduli. Sono quindi le preoccupazioni legate a modificazioni di lesioni pigmentate in gravidanza che possono essere fugate dal dermatologo con una diagnosi di benignità posta in base a criteri clinici, dermatoscopici e più raramente istologici. Fondamentale è la protezione solare durante la gravidanza, proprio perché le radiazioni ultraviolette possono ulteriormente incrementare la pigmentazione dei nevi melanocitici, rendendo più difficoltosa la diagnosi clinica ed ermatoscopica. Le radiazioni ultraviolette possono provocare iperpigmentazioni antiestetiche denominate melasma o cloasma. Bisogna però ricordare come esista la possibilità di sviluppare un melanoma in corso di gravidanza, la cui gestione ottimale si avvale di un approccio multidisciplinare tra dermatologo, oncologo ed eventualmente anche radiologo e medico nucleare. Questo è un classico esempio di melanoma in una paziente in corso di gravidanza dal punto di vista clinico ed ermatoscopico. Altro ambito molto importante è quello del counseling relativo alla procreazione in pazienti in età fertile che abbiano avuto un melanoma per consentire alla donna di poter prendere una decisione ponderando pro e contro sulla base di aggiornate evidenze scientifiche. Per ultimo, ma non per minore importanza, mi preme parlarvi di psoriasi, la patologia più frequente delle malattie infiammatorie cutanee. Rispetto agli uomini, le donne sono più colpite dal punto di vista della qualità della vita dall'apsoriasi, con frequenti stress, ansia e depressione. In gravidanza l'apsoriasi rimane stabile nel 20% dei casi, migliora nel 55% dei casi, mentre purtroppo il 25% delle pazienti presenta un peggioramento delle manifestazioni cliniche. L'apsoriasi non sembra incidere però negativamente sul decorso della gravidanza. In gravidanza occorre quindi bilanciare rischi e benefici dei trattamenti a disposizione. Sappiamo che molti trattamenti sono controindicati in gravidanza, quali acitretina e metotrexate. Spesso si assiste a un netto peggioramento nel postpartum e nel periodo dell'allattamento. Questo è un esempio classico di chiasseri tematodesquamative con localizzazione tipica a livello del gomito e a livello periombelicale. Cosa fare? La fototerapia con UVB a banda stretta è sicura in gravidanza e anche durante l'allattamento. Le cabine per effettuare la fototerapia sono presenti presso la dermatologia degli ospedali di Ravenna e di Faenza. L'accesso è possibile dopo una prima visita specialistica dermatologica. Sempre più dati ci dicono che in casi selezionate possono essere utilizzati anche i farmaci biologici, in particolare gli anti-TNF alfa. Per le forme di psoriasi grave che necessitano di terapia con farmaci biologici è presente un ambulatorio di secondo livello presso la dermatologia dell'ospedale di Ravenna. L'accesso è possibile anche in questo caso dopo una prima visita specialistica dermatologica. Questi sono i contatti dei tre punti delle dermatologie dell'unità operativa complessa di Ravenna, Lugo e Faenza, il telefono e la mail. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che la prevenzione non ha età ma cambia con gli anni.